Zibi Boniek, Giusea Altafini ed Enrico Sacchi, questi solamente alcuni dei nomi della parata di stelle del premio internazionale. E' infatti tutto pronto a Castiglion Fiorentino per la 24esima edizione del premio Fair Play Menarini. Seppure la fatica è stata enorme perché chiaramente con le difficoltà che sono sorte a causa del coronavirus, per esempio dall'estero è stato molto problematico portare delle persone. Però siamo riusciti fortemente a realizzare un amparterre d'eroe anche quest'anno. Non dimenticando peraltro quello che volevamo fin dall'inizio, cioè riconoscere qualcosa di importante a coloro che sono stati gli eroi del coronavirus, cioè i medici e gli infermieri che si saranno proprio nella serata del 10 settembre premiati. I personaggi più significativi, ma non per importanza, ma quelli che mi ricordo e via sono Luiz Van Gaal, Arrigo Sacchi, Zibi Boniek, Giuseppe Altafini, Dominic Paris, le sorelle Fanchini, Manuel Poggiali, poi sinceramente il giornalista per il premio dedicato a Franco Lauro sarà Dario Ronzulli, c'è Sandro Campagna che è l'allenatore del Settebello. Devo dire che mai come quest'anno probabilmente c'è un'attinenza strepitosa per quello che questo messaggio che danni il premio Fair Play col suo ideatore, fondatore, sostenitore, organizzatore Angelo Morelli porta avanti in considerazione anche del momento storico congiunturale che stiamo vivendo. Il 24esimo premio internazionale vivrà l'evento Clou nella cerimonia di giovedì 10 settembre nel suggestivo scenario di piazza del municipio a Castiglion Fiorentino, città che ormai da anni ospita e condivide i valori del premio. Il nostro comune è ambasciatore in Europa dei valori del Fair Play e attraverso questa iniziativa, l'iniziativa Clou, riusciamo a trasmettere questi valori non soltanto nei confini nazionali ma anche oltre confine. Credo che ormai il connubio Castiglion Fiorentino e Associazione Fair Play sia consolidato e sia un marchio di qualità.